Hi, buongiorno siamo qui nel post partita a vista affrontarsi Borussia Dortmund contro Tegarnis, la partita finita 5 a 3 per i Gunners, abbiamo qui Lugliani in campo Prudente e Falco. Andiamo dalla squadra che purtroppo ci dà sconfitta, Falco, buona prestazione nel primo tempo entrambe le squadre forti, siete riusciti a pareggiare, no, scusami, non voglio fare una volta pareggiato, tre volte pareggiato, però purtroppo qua la fine è scopalata fisicamente, purtroppo come al solito regaliamo sempre i gol, perché sinceramente siamo 3-3, ce la stiamo giocando, non possiamo far fare il colpo di tacco ad attaccante loro che vince la partita, quasi già mi sta batendo che è una peste, quindi ogni volta che ci stai scopalato per prima, vabbè questo è andato di fatto, è andato di fatto, abbiamo giocato bene calcolando, comunque dei titolari eravamo solo 3, 4 con il portiere, i due nuovi innesti si erano inseriti abbastanza bene, un palo purtroppo che ci ha privato del 4-3 di noi sul ribattamento è una prestazione buona, compressiva, però come al solito se gli altri sono forti e gli regaliamo pure i gol, è inevitabile perdere, è inevitabile che manca qualcosa Aterica, è che c'è Aterica, stiamo potendo sempre Per questi due gol penso in teoria meritata, soprattutto nel secondo tempo, loro nel secondo tempo sono salati molto, anche perché ovviamente sono andati di sbattare Sbattoro, cari comunque in mese, un mese panare Grazie a te che non avete approfittato, cosa potete migliorare? No, ma dicevo in campo, no, per po' Sbattoro, come a livello di punteggio Sbattoro a livello di punteggio Sbattoro, sono andato in vantaggio a prima tempo, non mi come due non mi chiusa a fare Sbattoro, purtroppo per il problema che.. Pense si, è vero… No, ve lo vede prezzo Allora siamo po', allora.. Allora, chi te ne viene cerco, come tu? Sbattoro, che ci vuole vuole? Dimmi a te, mi ha dato perché... Gli è dato, vuoi due Una tica speciale per questa doppietta Ah! Ah! Ah!